Buonasera e buon viaggio da 1 tra Calenzano e Firenze e Scandicci, rallentamenti, traffico intenso in direzione di Roma. Per i treni una riprogrammazione dell'offerta commerciale, il 18969 Firenze-Borgo viaggia al momento con 20 minuti di ritardo. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio!